Ragazzi il primo short, si chiama così giusto? Il primo short è il canale dove io utilizzerò principalmente per fare degli aggiornamenti riguardo le nuove uscite del canale, quindi stavolta non utilizzerò Instagram Instagram lo utilizzerò soltanto per tenervi aggiornati sull'uscita del video quindi se per caso esce un video su Instagram io andrò subito la notifica di quando uscirà intanto ci metto purissimo, faccio lo screen, lo swipe up, non lo posso fare solo predica faccio lo swipe up e basta, invece no, faccio lo screen, mi chiedete in privato di linkarvi il video e io ve lo linko direttamente, ma per quanto riguarda le uscite e l'elaborazione di nuovi video vi dico che quest'ultimo qua che sto facendo, ci sto lavorando pian piano, oggi lo finisco e domani lo pubblico, e ciò ragazzi significa che domani se riesco, come ho già detto prima carico questo video, ma nella prossima settimana in generale, ovvero quella direttamente dopo questa se riesco pubblico tre contenuti a settimana se riesco è poi potrebbe anche darsi che non riesco più a farlo